Si è tenuta nei giorni scorsi presso la sede di Confindustria Cuneo la presentazione dell'indagine congiunturale di previsione per la nostra provincia per il quarto trimestre 2022. Sentiamo il commento di Giuliana Cirio, direttore di Confindustria Cuneo. Nel quarto trimestre 2022 gli imprenditori concretizzano un po' le paure che sono state serpeggianti già dal terzo trimestre e che sono collegate, come ognuno ormai sa, all'aumento dei prezzi delle materie prime, i costi energetici e le difficoltà logistiche nella movimentazione delle merci che sono dovute alla difficilissima situazione congiunturale. C'è da dire però che, a parte l'ondata emotiva che ha portato evidentemente a risposte più negative rispetto al passato, i numeri fondamentali ancora tengono e quindi diciamo che nonostante la congiuntura difficile tiene ancora il nostro tessuto industriale.